La musica, il lutto, perché Tonino Cripezzi, storico leader e tassierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in un'hotella di San Buceto. La notizia è stata anticipata dal sito online del quotidiano Il Centro e da Gianluca Lettieri e come potete immaginare ha fatto il giro del web. Tonino Cripezzi, storico leader del gruppo musicale I Camaleonti, è stato trovato morto stamattina in una stanza dell'hotel Dragonare a San Buceto. Secondo le prime indiscrezioni, il musicista di 76 anni, originario di Milano, sarebbe stato colto da un malore improvviso. Proprio ieri sera, Cripezzi si era esibito insieme al suo complesso a Pescara, al parco Villa dei Riseis. Sul posto sono intervenuti il 118 carabinieri della stazione di San Buceto e della sezione operativa della compagnia di Chieti. Intanto si susseguono anche i commenti sul sito di colleghi, scrive Maurizio Vandelli sulla sua pagina social. No, ho saputo ora dall'allo dei Dick Dick e confermato da Valerio Veronese e dai Camaleonti che il mio amico carissimo Tonino Cripezzi, non c'è più un fratello per me, ciao Tonino, ti voglio tanto bene. E ripetiamo, diversi sono i messaggi non solo degli esponenti del mondo della musica, ma un po' di tutti i fans di questo storico gruppo, il gruppo dei Camaleonti.